Buona domenica, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 30 aprile. Quali sono le notizie fondamentali sui giornali? Ci sono molte pagine che sono dedicate alle primarie del PD, le posizioni dei diversi candidati, il segno che i giornali non riescono secondo me a intercettare l'attenzione dei lettori come dovrebbero, nel mio modestissimo punto di vista. Due pagine oggi dedicate al PD o tre pagine con retroscena sono lette secondo me da pochissime persone, uno non dovrebbe passare molto tempo, cosa che non farò neanche io in questa nostra zuppa di porro, se no voi scappate via a gambe levate. Quindi una sola notizia dedico alle primarie del PD, e cioè quella geniale, come spesso avviene, vignetta del Corriere della Sera in prima pagina di Giannelli, in cui scrive la parola affluenza, e si vede affluenza verso la costa, cioè tutti gli immigrati che cercano di arrivare in Italia con i barconi strapieni, affluenza verso il mare, e si vedono tutte le auto degli italiani che vanno a fare il ponte che c'è oggi e domani, in questo mese, in cui si è pieni di ponti, quindi l'affluenza per andare al mare, con tantissime macchine per andare al mare, infine affluenza e gazebo, si vede una sola persona. Ecco, questo è il senso di quello che rappresentano in Italia purtroppo le primarie del PD, cioè interesse pari a zero, se non quello dei giornali. Il Corriere della Sera, secondo me, in maniera un po' azzardata, fa le prime due pagine sulla Brexit, sul fatto che ieri in un Fiat i 27 capi di Stato dell'Europa si mettono d'accordo sulle procedure per far uscire la Gran Bretagna, è un box su Repubblica di 20 righe, sono due pagine sul Corriere. Unanimità nel Consiglio europeo, dice il Corriere, tutti d'accordo nel decidere che cosa fare. Il senso è che ci sia stata l'unanimità tra i 27 in Europa, anche se Danilo Taino fa vedere come ci saranno delle eccezioni, e è sempre molto buono leggere quello che scrive Taino, lo scrive tra l'altro sempre brevemente in 20 righe, dà forse l'idea che una cosa che viene decisa all'unanimità in Europa certamente non è una cosa decisa, perché l'Europa all'unanimità decide soltanto di non decidere. Quindi forse la scelta giornalistica di quelle due pagine non è così azzeccata. Oddio Silvio si è rotto ancora, titola Libero, in un titolo che sicuramente non farà piacere dalle parti di Arcole, e sotto ancora più irriverente il commento, il sommario, tre punti in più per Berlusconi, ma in faccia e non nei sondaggi. È caduto a Portofino Berlusconi, si è fatto male, Libero apre il giornale con questo e lo sfotte un po', cosa che non piaceranno sicuramente a Arcole, affari loro ovviamente. L'ultima cosa veramente che ha senso invece parlare è questa lotta sull'ONG che ci tiene da una settimana inchiodati alle dichiarazioni dei ministri. Questa volta Alfano e Orlando sono i due che litigano, il ministro degli esteri dice che hanno ragione 100% il procuratore di Catania Zuccaro, è la nostra posizione, come ben sapete, ma c'è una selva di risposte da parte del governo che non accetta la posizione di Alfano. In questo il più duro è Orlando, dice ma scusatemi, tra l'altro fa anche un'intervista al Corriere della Sera, dove era il ministro quando era ministro degli interni? Era distratto quando era agli interni? Chiede retoricamente Orlando ed è una cosa che certamente non fa piacere ad Alfano. Il più forse venenoso di tutti è Travaglio che da una parte è d'accordo con il Movimento 5 Stelle e con Di Maio sull'ONG, dall'altro non può stare ovviamente con Alfano. Di Alfano dice, scusatemi, è lo stesso Alfano che ha come suo uomo politico l'ex sottosegretario dell'NCT che si chiama Castiglione e che è stato rinviato a giudizio proprio da Zuccaro per il cara di Mineo? Cioè Zuccaro è lo stesso giudice di cui condivide al 100% Alfano tutto, condivide anche il fatto che abbia rinviato in giudizio il suo uomo Castiglione, ovviamente a Travaglio non sfuggono tutti quanti i dettagli delle questioni giudiziarie. L'altra polemica, l'altra coppia polemica oltre a quella di Alfano e di Orlando, diciamo Alfano contro tutti all'interno del governo, tra l'altro nell'intervista di Repubblica Orlando va anche più avanti perché dice non pensavo si fosse iscritto al partito dei populisti, come se quello dell'andare a guardare quello che succede all'ONG è un partito dei populisti e non della realtà secondo me, ma vabbè pazienza. Grasso, certo noi stiamo nelle nostre casette qua, Milano, Roma, nei centri città, non ci rendiamo conto che l'Italia è invasa e che una componente di questa invasione deriva dal fatto del business di queste ONG. Certo non bastano solo le ONG a giustificare l'arrivo di questi disperati, ma forse cercare di togliersi i paraocchi e cercare di vedere come questo sia un problema per l'Italia che converrebbe farlo, cosa che non fanno i giornali tradizionali e ben pensanti. Grasso Di Maio dice di andare a studiare perché ha molte lacune, devo dire che il professorino, il maestrino Grasso non ti fa grande simpatia quando dice allo stesso Di Maio di andare a studiare. Bah, insomma forse, vabbè, insomma lasciamo perdere le questioni che riguardano Grasso, però andare a studiare perché ha molte lacune dette da un organo dello Stato o al vicepresidente della Camera, forse potrebbe studiare anche Grasso che non sono questi i toni, essendo lui molto più anziano di Di Maio, da tenere istituzionalmente. Il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, che dice al vicepresidente della Camera di andare a studiare. Io lo faccio perché io sono un polemico, mi attacco a tutti, però loro che fanno sempre i fenomeni custodi del rigore repubblicano, forse su questo non fa parte del loro DNA, no? Caro Presidente Grasso, utilizzare questi termini, poi a me non le fotte nulla. I soldi di Moas, che sono una delle ONG coinvolte da Zuccaro, secondo le ricostruzioni di Repubblica, se siete interessati andate a guardare, in realtà si sono impennati a 6 milioni di finanziamenti a questa ONG. Marco Tarquinio, ineffabile, quello che fa il direttore di Avvenire, è stato smentito dall'osservatore romano, ma che dice che tre tre proposte su quattro, tre quarti del programma del Movimento 5 Stelle, i cattolici lo condividono, si è dimenticato ovviamente quello dell'ONG, perché sull'ONG invece Tarquinio va proprio, avete presente i paraocchi, così, vum, oggi ci spiega in una risposta alla lettera di Avvenire che il problema sono le armi che noi vendiamo in Nigeria, questo è il problema, o comunque nei paesi in Africa, cioè dobbiamo rispettare le regole, cioè ci sarebbe meno immigrazione se noi rispettassimo le regole, quindi il sottotitolo è colpa nostra se vengono da noi, perché gli vendiamo le armi. Ottima idea, così risolviamo i problemi, caro Tarquinio. Così quando lui voleva risolvere i problemi con me, dicendo che conosceva con Falonieri, perché non aveva gradito molto il rapporto che ha avuto con me durante una trasmissione di Matrix, incredibile. L'uomo delle regole, no? Perché io conosco quelli che comandano in questa azienda, mi è minacciato. Va bene, intanto il giornale titola dicendo che gli sbarchi in Italia intanto crescono del 140% e questo è il tema degli sbarchi. Andiamo su questioni molto più serie, non vi annoiate, però è stupendo il pezzo della Bufacchi di oggi, che è l'unica che dovete leggere sul Sole 24 ore, ma anche sugli altri giornali, su come va il nostro debito pubblico, che è la vera ancora, il vero peso che abbiamo. La cosa straordinaria è che nei primi 4 mesi dell'anno sapete quant'è il tasso medio, cioè quali sono gli interessi sui bot negativi, 0,275 in meno, quindi se voi comprate dei bot, li comprate a 100,169, vi restituiscono 100, quindi perdete dei soldi se comprate i bot. Ovviamente nessuno di noi del retail lo fa, ma questo dà il senso di come questa fase, il debito pubblico italiano, almeno quello a breve, costi pochissimo. Interessante pezzo per gli specialisti della Bufacchi, ma non solo per gli specialisti. Avrei voluto leggere, perché lo conosco, ho lavorato per un periodo, anche forse se oggi se ne vergogna, al giornale Paolo Bricco, che scrive sul Sole 24 ore, avrei voluto leggere il suo ritratto di Gabbetti, che è certamente una persona interessante, ma quando nelle prime cinque righe ho letto questa frase riguardo a Gabbetti, gli occhi blu non sono velati dall'usura dei 92 anni, ho temuto che il ritratto non fosse forse esattamente in linea con lo spirito che mi sarei atteso. Poi magari, siccome Bricco è bravo e si occupa dell'economia da anni, probabilmente, a parte questa infelice descrizione degli occhi blu, che non sono velati dall'usura dei 92 anni. Vabbè, questi sono gli occhi di Gabbetti. Andiamo sull'ultima questione, e l'ultima questione, ma vi rubo 20 secondi, è la pubblicità che ho visto oggi del Festival della TV di Dogliani e dei nuovi media. Festival della TV e dei nuovi media. Io mi sono andato a guardare i panel, come si può dire, cioè chi ha invitato. Quello più straordinario è le ragioni del populismo. Allora, tu fai un panel sulle ragioni del populismo, il che ci sta, diciamo, perché oggi tutto viene considerato populismo, viene considerato populismo il vincitore. Trump viene considerato il populismo. La Brexit viene considerato il populismo. Alfano viene considerato il populismo. Salvini non si riesce a capire che cosa sia effettivamente populismo, no? Ma al fai dei seguiti di Dogliani, delle ragioni del populismo, sapete chi parlano? Calabresi, il direttore di Repubblica. E pensate voi un po' come la possa pensare. Il mio amico Claudio Cerasa, che tutto ha fatto nel suo giornale, lo è nel suo DNA, contro il populismo. Vende le copie per un establishment, che è tutto tranne che il populismo. Fontana, che è il direttore del grande giornale borghese italiano, il Corriere della Sera. E Molinari, che è il direttore della stampa, cioè che è la stessa cosa, insomma. Cioè hanno preso quattro uomini dello stra-establishment per ragionare sulle ragioni del populismo. Guardate che questo non è un auto-invito. Io ai festival della TV, della televisione, qualche volta mi hanno anche invitato, non questo di Dogliani, non ci metto piede perché non me ne fotte nulla. Ma voi guardate il festival della TV di Dogliani e capite, voglio dire, capite lo spirito di Grillo, che ieri ho insultato, gli ho detto che è uno stronzo, cioè quando prende e insulta i giornalisti. Io non voglio insultare i giornalisti, non voglio fare come Grillo e difendo i giornalisti che fanno il loro lavoro in sala ad ascoltare Grillo e che Grillo sbaglia ad attaccarli. Ma quando vedo l'establishment che si riunisce a Dogliani a parlare di cose che non conosce e soprattutto parla dei nuovi media, dei nuovi media di cui questi sono morti come me, che camminiamo, cioè siamo tutti morti che camminiamo, questa zuppa che vedete in questo momento, che state vedendo in questo momento, alla fine farà 20.000 persone che se la magnano e 150.000 persone di Rich, esattamente quanto fa il giornale, più o meno, più di quanto fa un articolo mio sul giornale. Io sono un pubbiscolo ovviamente della rete, ma dobbiamo cercare di conviverci con questa rete. Questi fanno il festival di giornalismo a Dogliani, pagati da Vodafone, pagati da Eni, pagati da Unipol e ovviamente all'interno dei panel ci sarà il rappresentante di Vodafone, di Eni e di Unipol, il che è perfettamente legittimo, nulla di sbagliato, ma dove vogliono andare, dove vogliono andare. Comunque, io vi saluto, vi auguro una buona domenica e noi ci sentiamo domani, ciao.